Buonasera a tutti amici di Domi Digital, ben arrivati in questo nuovo appuntamento della rubrica dei RIF Allora, di che cosa vi parlo in questo video? Di questo video andiamo a vedere le pompe di movimento e nel dettaglio andiamo a sporcarci le mani nella pulizia e la manutenzione delle pompe di movimento Jebbao Allora, quali sono queste pompe di movimento che ho nel mio acquario? Allora, le pompe di movimento Jebbao secondo me sono le migliori per quelle che ho avuto modo di conoscere che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo Le si trovano alcune volte su Amazon, non sempre Si trovano sicuramente su Aliexpress a prezzi veramente bassissimi Ci sono sia il modello che ho io, quindi sono entrambe che si possono disporre su entrambi i lati oppure seguendo i vari schemi che ci sono in giro sui vari blog e quant'altro Se volete ne organizziamo, parliamo anche del movimento eccetera Le mie nel dettaglio sono le Jebbao modello RW4 Le si trovano su Aliexpress a prezzi veramente abbordabili Oppure altrimenti ci sono altri tipi di Jebbao di livello superiore, con più potenza in base alle vostre esigenze comunque Sono automatiche, hanno un controller che ho posizionato sotto il mobile Andiamo a vederlo nel video Ma nel dettaglio, in questo video voglio farvi vedere la manutenzione Ogni quanto faccio la manutenzione e come si fa la manutenzione di queste pompe In modo tale da preservarne l'attività e quindi farle durare più a lungo possibile E farle lavorare al meglio possibile Perché sappiamo che il movimento all'interno dei nostri acquari marini è sicuramente una delle cose più importanti per la salute dei nostri animali Per avere un acquario perfetto Queste sono le mie Jebbao RW4 Questo è il modello Adesso andiamo a vedere come smontarle Sicuramente staccate la parte interna Vi serve sicuramente una bacinella all'interno di un lavandino Perché ci sono dei pezzettini piccolissimi che seccadono all'interno del lavandino Poi è difficilissimo recuperarli altrove Bene, allora staccate il supporto che c'è dietro Come faccio vedere qui, questi sono i gommini Togliete, fate una rotazione Vedete, bisogna fare Più sono sporchi e più bisogna fare forza Non temete, non si rompe Rotare Questa è praticamente l'elica che fa il movimento dell'acqua La sfida, vedete, questo è il primo gommino di plastica Fate attenzione, io posiziono tutto all'interno della vaschetta Oppure in punti in cui non si perdono E comincio praticamente a lavare Vedete che c'è all'interno anche una guida Vedete che qui già comincia a uscire lo sporco Considerate che io questo lavoro lo faccio circa una volta ogni due o tre mesi Ma non ho una tempistica stabilita Vado un po' pure a occhio perché sono periodi in cui la vasca si sporca di più di meno Mi aiuto con uno spazzolino Ovviamente questi oggetti ragazzi sono tutti oggetti Che io utilizzo solo e esclusivamente per l'acquario E ho in un posto in cui non si sporcano con agenti chimici ed altro E praticamente vedete io passo spazzolino in tutte le parti interne Non faccio grandissima difficoltà Perché diciamo che l'acquario è giovane quindi a un anno In passato con un acquario un po' più adatato Praticamente si forma molta più corallina E quindi in quel caso bisogna andare a grattare anche magari con una lametta Vedete io qua lavo a inizio Faccio difficoltà praticamente a smontare la parte interna E alla fine riesco a sfilare ecco la guida Dove praticamente c'è la ventola che muove l'acqua Qui all'interno vedete c'è una piccola rondella che si stacca Quindi per questo serve ragazzi attenzione alla bacinella Mettete qualcosa sotto in cui fa fine tutto Leggermente all'interno metto lo spazzolino Sciacquo per bene il tutto E ricomincio l'assemblaggio Ok riparto praticamente dalla parte bassa L'acqua praticamente faccio in modo che diventi pulita E inserisco quella piccola rondella che va nella parte bassa interna Quindi inserisco la guida all'interno La riposiziono accuratamente Oppure potete se non riuscite a fare difficoltà Potete montare il tutto sulla ventolina E poi inserire all'interno Vedete che all'interno c'è un piccolo bochino Quindi bisogna fare semplicemente centro in quella parte lì Quando arriva abbattuta vi fermate Cioè questo gommino ragazzi Mi raccomando in tutti i tipi di pompe che smontate La maggior parte hanno quel gommino Mi raccomando perché senza quel gommino La rotella non gira E quindi non funziona Poi praticamente io rimonto In senso contrario E praticamente monto i gommini che servono ai lati Questi sono importantissimi perché evitano il rumore Evitano che le vibrazioni Evitano che con il movimento si spostano Quindi veramente sono importantissimi E io praticamente una volta rinserito il tutto Guardate qui praticamente uno fiura Purtroppo Purtroppo quando l'ho vista Io ci sono veramente malissimo Perché Cerco di mantenere al massimo La vita all'interno dell'acquario Ecco qui Queste sono le pompe Reinstallate e pulite Devo dire Un funzionamento Veramente 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 migliorato al massimo Erano veramente arrivate In un punto Non diciamo indecente Ma era da pulire Questi sono i controlli Di cui vi dicevo all'interno Che ho posizionato all'interno Del mobile Della Samp Una è master E una è slave Siamo arrivati alla fine di questo video Come avete visto Ci siamo sporcati bene le mani Ed è un lavoro sporco Ma qualcuno lo deve pur fare E va fatto Va fatto E se siete curiosi Su come ho configurato Se volete vedere Come si configurano Perché io ho fatto Tanta difficoltà Su questo tipo di pompe C'è poco in giro E quindi ho fatto Difficoltà A configurarle Se qualcuno è curioso E vuole sapere Come si configurano E soprattutto Come si configura il discorso Master e slave In modo tale Che si alternano E fanno tutte le funzioni In automatico E volete che analizziamo Anche le funzioni Delle bombe In automatico Ditemelo qui nei commenti Che facciamo magari Un video ad hoc Vi lascio il link Qui sotto in descrizione Dove potete trovare Queste pompe Che ho acquistato E altri tipi Di link Se volete sostenermi Dove io Dei prodotti che io uso Delle cose che ho acquistato E anche gli acquari E le cose che ci sono All'interno dell'acquario Io vi ringrazio a tutti ragazzi Buonanotte Da Domi Digital complicated Ecc Così Qui sotto in descrizione Eu scrivo il mio quce Ecc since Un'ultima Un'ultima Eccce La DC